Agli ex, l'ultimo turno dei vari campionati in Italia e nel mondo, partiamo come al solito con la Serie A e in particolare con due difensori che non farebbero gol ma che sono tolti la soddisfazione, questo è Gamberini il gol di testa su azioni di calcio d'angolo del pareggio, poi contro la Lazio, questo è il gol del vantaggio poi finita 1-1 e questo invece è il colpo di testa di Andrea Costa che ha regalato i tre punti a Lempoli contro il Crotone, gol appunto per l'ex Rosso Blu Andrea Costa. Passiamo in Serie B per Mettao Brighi, segna questo gol importante 1-1 la partita tra Perusa e Brescia secondo gol, l'aveva fatto gol anche in Coppa Italia per Brighi che sfrutta questo impallo a percussione e poi appunto batte il portiere quindi dimostra di saper fare ancora gol. Primo gol in stagione anche per Gianluca Sansone, ex che andiamo legato all'ultima promozione del Bologna un rapinatore della Diegoi e l'ultimo tocco è suo, quello proprio nel cuore dell'area piccola si fa trovare pronto su questo rimpallo dentro l'area, la schiaventa dentro, primo gol con la maglia del Novara poi c'è anche il gol di Caccia che l'anno scorso ha segnato con una certa continuità c'è un'azione decisamente confusa nell'area della Spal, la risolve Daniele Caccia anche questa gara finisce poi 1-1 per Caccia, è il primo gol, in estate ha rifiutato offerte che arrivate anche mi sembra dall'Australia, insomma vuole continuare a giocare in Italia e fa bene perché la Serie B per lui è ancora un campionato estremamente competitivo anche se questo gol è facile. Avevamo detto di Falco che ha segnato ancora, lo vediamo, un altro bel gol diverso rispetto a quello che abbiamo visto prima però questa volta usa la posizione magari meno che la potenza, sempre tutto mancino però è il gol del Benevento 2-0 al Verona scendiamo in Serie C in Lega Pro perché questo è il gol di Musto è quel giocatore che il Bologna ha comprato dalla Torres, attaccante, che ha girato in presto al Gubbio e mi faceva piacere perché ha in presto, è un ragazzo che parla molto bene quindi questo è il suo primo gol, segna anche Riverola, questo è il suo gol contro la Vibonese Riverola è rimasto al Foggio dopo non essere riuscito a centrare la promozione in Serie B primo gol per lui e poi Isaac Belfodil non gioca più negli Emirati Arabi, mi dispiace Luca gioca in Belgio, nello standard 10, con Gillet però vedi che adesso qualcuno va a vedere Quanta gente, non ero più abituato e questo è il suo primo gol in stagione, diceva gioca nello standard 10 la cui porta è difesa da Gillet, quindi sono due ex russo blu nella stessa squadra chiudiamo dopo appunto Belfodil che vediamo questa azione insomma ci sta ecco è un attaccante che non valeva gli Emirati Arabi, può stare in Europa ancora in Uruguay con Rodriguez che prima sbaglia un calcio di regore poi dopo nel finale con la squadra in svantaggio per 1-0 la difesa è imbarazzante, la difesa ne combina una dietro l'altra però il gol è bello anche lo stadio non è proprio che sia così costruito è lo stadio del Boston River e vediamo ancora la difesa è qualcosa di agghiacciante prima la rovesciata nel nulla, poi il difensore che va per campi e il gol e al fine grazie a tutti grazie a tutti